varis è un targaryen allora questa teoria nasce dai libri come in realtà tutte le teorie che abbiamo detto l'altro giorno perché ovviamente con la serie che è finita e tutti i dubbi le perplessità e lo schifo che ha lasciato ovviamente ci rifacciamo ai libri che sono questo fantastico universo dei libri allora gli indizi che troviamo sui libri per quel che riguarda la possibilità che varis sia un targaryen sono allora sappiamo che è stato venduto a peso d'oro a uno di quei mercanti di di pentos vabbè di list quella parte del mondo lì e però ne pare che lui sia proprio originario anche non proprio di lista ma proprio di quel di quel circondario adesso mi sembra fosse originario di lista se non ricordo male dei libri e va bene così allora quindi il primo punto appunto di questa teoria lo dà in realtà è proprio questo no questo mercante in realtà era uno stregone era uno stregone del sangue che ha comprato varis per fare quell'incantesimo del sangue no quella tutta quella questione che abbiamo seguito della sua evirazione no che viene citata anche nella serie ma poi è stata abbandonata lì ma vabbè allora in questo questo è il primo punto della teoria e vi è si è cominciato a speculare appunto che varis sia un targaryen da questo punto perché allora melisandre non so se ve lo ricordate quella parentesi con con gendry quando fa tutta quella roba gli mette quel passaggio con le sangue suga no usa il sangue di gendry perché gendry è figlio di robert ok e viene detto che più è potente il sangue dire presente nelle vene della persona utilizzata per fare l'incantesimo più ver è potente proprio l'incantesimo appunto facendo questo collegamento si è pensato che sia stato utilizzato varis in quanto targaryen perché i targaryen sono sovrani da circa tre secoli circa tre secoli all'interno della storia quindi teoricamente dovesse essere vero il sangue di varis è potentissimo secondo questa teoria e questo è il primo punto a favore di questa teoria poi abbiamo il secondo punto che è stato portato a favore di questa teoria è il fatto che varis della pelata di varis diciamo così in questo senso è stato teorizzato che varis possa radersi costantemente capelli perché avrebbe i capelli quelli classici platinati insomma biondo argente o dei targaryen e per evitare di far trapelare insomma di far notare questo tratto distintivo molto singolare si raderebbe costantemente a zero è un altro punto a favore che di questa teoria che è il fatto che nelle graphic novel di di game of thrones proprio varis viene disegnato con gli occhi viola che anche questo sappiamo essere un punto distintivo dei valyriani non per forza di targaryen ma dei valyriani diciamo ecco e allora questa in realtà non è una fonte propriamente canonica per come intendiamo noi il canone perché le graphic novel non sono scritte né tantomeno disegnate da martin però c'è da dire che comunque è varis a dare indicazioni su sui tratti dei disegni dei personaggi quindi la va tenuta in considerazione sì però la teniamo più che altro come formazione bonus più che come informazione vera e propria ecco anche perché poi nei libri non viene mai descritto e quindi questo è l'unico riferimento che abbiamo al colore degli occhi di varis la teniamo come fonte semi ufficiale diciamo così allora poi un altro punto a favore un altro punto a favore del fatto che sia un targaryen quello che accade la teoria sostiene che un altro punto a favore della teoria che varis sia un targaryen è data dal fatto che quando arriva tywin ad approdo del re verso la conclusione della ribellione di robert il gran maestro paisel dice di aprire le porte perché tywin è un amico sempre stato amico della corona è stato cavaliere del primo cavaliere del re per tanti anni e per di più a 12 mila uomini al suo seguito che potrebbero essere molto molto utili per difendere la città visto che la guerra la stavano perdendo mentre varis sempre in questa circostanza invece preme parecchio per non aprire le porte della città e la secondo la teoria si comporta in questo modo perché appunto un targaryen e per una sorta di difesa della famiglia diciamo così e anche potenzialmente immaginando quello che sarebbe successo avrebbe premuto per questo motivo qui per difendere la famiglia un altro punto a favore riconducibile in realtà questo è il fatto che varis si sostenga nella serie a viso aperto nei libri un po meno sostenga daenerys dalla serie sappiamo proprio visto tutta l'evoluzione del varis prota pro targaryen ci mette proprio la faccia e tutto praticamente tutto il regno sa che sostiene daenerys nei libri questa parentesi del sostegno a daenerys è un po più mascherata o meglio nel senso le da sempre una mano è perché comunque comunica sempre a giora gli attentati che si intendono fare danni di tenerys come quel mercante di vino che aveva provato da avvelenarla nella prima stagione no ve lo ricordate che poi che al drogo lo lega al cavallo gli lega i polsi al cavallo e lo trascina nudo per le praterie no ok nei libri accade praticamente la stessa cosa identica e anche in più circostanze simili a cui se gli da una mano e appunto per una questione di realtà alla famiglia sarebbe aiutando daenerys nei libri aiuta anche griff il giovane che un altro personaggio del quale parliamo dopo non anticipo nulla su questo e poi consideriamo ecco anche il fatto che comunque il sia nei libri che nella serie il matrimonio tra daenerys e cal drogo viene organizzato da appunto da varis delirio praticamente che ricorderemo che l'intento del matrimonio era quello il solo scopo del matrimonio era quello di dare a viserys tutte le orde totrachi che sarebbe sarebbero state il suo esercito per la riconquista di westeros poi allora queste erano in realtà i punti principali di questa teoria e di recente è stato possibile anche collegare un ulteriore punto che a sostegno della della teoria appunto che riguarda una domanda rivolta a martin non ricordo in più occasioni a dire la verità i fan hanno chiesto a martin se fosse possibile che daenerys avesse dei parenti sparsi per planetos alla domanda martin ha risposto come segue piccola premessa in realtà nei racconti di dunk and egg si parla di di questo personaggio che è erion targaryen detto chiara fiamma o il mostruoso che va bene i racconti fa tante cose e ad un certo punto era stato esiliato a proprio alice la città natale di varis e appunto da quando è uscito questa informazione appunto di questo personaggio alice molti fan hanno avuto la pulce nell'orecchio ed hanno chiesto appunto a martin se daenerys potesse avere dei parenti anche molto alla lontana dalle parti di lis o comunque sparsi per tutta planetos vi leggo la risposta di martin alla domanda erion chiara fiamma non è rimasto alice per tutta la vita solo alcuni anni potrebbe aver generato alcuni bastardi il che significherebbe che deni ha dei parenti di qualche tipo alice ora questo in realtà era l'unico punto mancante della teoria e voi che ne pensate potrebbe essere plausibile nel mentre che aspetto comunque le vostre risposte vi dico io personalmente credo che possa essere possibile in realtà come come teoria plausibile sì però non ci credo non ci credo per il semplice fatto che comunque sia nei libri che nella serie abbiamo la teoria di john che è un targaryen che in realtà è assodata al 99,999 periodico per cento che sia un targaryen per metà che è un per metà targaryen bisognerebbe solo vedere se è stato legittimato o meno con un matrimonio tra rega quindi abbiamo lui e poi abbiamo avuto la rivelazione di maestro emon in realtà abbiamo avuto anche questa rivelazione e staremmo e stiamo già a due targaryen sicuri uno tirato fuori dal cilindro così che è maestro emon e l'altro al 99 per cento è john poi eventualmente avremmo varis probabilmente tirion e a questo punto varis cioè eventualmente sarebbero poi sei targaryen che stanno in giro cioè a me sembra poco probabile perché poi finiremmo nel cliché di gogo e l'ultimo saian e poi a stecca radis shonapa e vegeta e a seguire transe gothen e gohan oppure alla clark kent che praticamente superman nell'ultimo kriptoniano e poi a stecca tutta gente di kripton quindi non la vedo particolarmente applicabile a dire la verità così come un discorso contorto un po contorto anche questo credo perché se lasci tutti questi indizi o presunti tali in giro e poi non me ne dai conferma che fai prendi in giro cioè varis dico martin sarebbe capace di farlo però boh io personalmente ecco appunto non credo alla possibilità che varis sia un targaryen però ecco se dovesse in realtà poi rivelarsi vero un po mi infastidirebbe appunto questo cliché del sei l'ultimo targaryen e poi tutti targaryen sei l'ultimo saian poi tutti saian l'ultimo kriptoniano e poi tutti kriptoniani però è anche vero che se dovesse realizzarsi in realtà mi lascerebbe stupito perché appunto è una cosa che non mi aspetto e mi lascerebbe una sensazione che non so ancora se sarà positiva o negativa però comunque mi lascerà un qualcosa e io personalmente da una storia voglio questo che comunque mi trasmetta qualcosa e che mi lasci qualcosa una volta conclusa grazie a tutti